Vorrebbero Pardon che è piccolo contro De Lia, giocherà di agilità forse, si gira a semigancio, morbido per il 17-25. Bello questo movimento perché si ha avvicinato e come ti dicevo prima, raggiungendo il Palabigi Ugo. Ma non da tirati da loro, forse da un ricevitore non prontissimo. Mentre Pardon questa volta con la mano destra. E siamo a 14 assist di squadra, Ugo, su 14 canestri della Sega Fredo Virtus. Però arriva un altro canestro di Pardon.